Siamo a Toretta Antonaci insieme alla delegazione dei braccianti dove stamattina abbiamo affrontato la questione dei bassi salari, la questione delle giornate effettivamente lavorate, la questione della residenza, ma soprattutto abbiamo posto al centro la volontà e la determinazione di una mobilitazione a Roma per la regolarizzazione di tutti i braccianti. Di tutti gli invisibili, la questione della residenza, ma soprattutto per una filiera sana, per un uguale lavoro, uguale salario. Questa è la voce dei braccianti di Toretta Antonaci, ci stiamo organizzando per venire a Roma, per la dignità, i diritti, uguale salario, la regolarizzazione e la residenza per tutti i braccianti indipendentemente dalla provenienza geografica. Grazie.